Ritorna domani sabato 17 febbraio Rugarrasciari di Rimazzidaggi, il Carnevale dei Macellai, una tradizione che sarà rinnovata ancora una volta dall'omonimo gremio che partecipa alla Farada del 14 agosto e che ha come patrono San Maurizio. L'organizzazione sarà curata insieme al Circolo Raggio d'Oro e l'obiettivo è restituire alla città un grande momento di festa e di anticipazione collettiva, da alcuni anni ripreso in grande stile, come è ancora vivo nel ricordo di chi lo ha vissuto qualche decennio fa. Intorno alle 16, come da tradizione, dal mercato civico cittadino partirà la sfilata dei gruppi mascherati che attraverserà gran parte del centro storico, con arrivo al Circolo Ferroviario in Piazza Stazione verso le 18. Sarà presente anche la secolare Maschera dell'Orso, ripresa negli ultimi anni proprio per questa occasione. Al rientro il gremio e il Circolo Raggio d'Oro offriranno carni cucinate alla braccia, fave, frittelle e per i bambini un sacchetto di caramelle. Il tutto con l'accompagnamento del gruppo a menti passati, che proporrà le musiche tipiche del Carnevale e della tradizione sassarese, con la partecipazione di Giuseppe Manca.